Siamo nella sede USB di Talsano Taranto, ho al mio fianco il coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo. Allora vogliamo fare un po' il punto sugli incontri romani che i sindacati, le sigle sindacali hanno avuto con il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, con il presidente e amministratore delegato di Arcelor Mittal, Lucia Morselli. Insomma Rizzo abbiamo visto proprio l'indifferenza, passatemi l'espressione, la strafottenza di Arcelor Mittal nella persona di Lucia Morselli. Ma andiamo per ordine, intanto questo incontro con il ministro Patuanelli, voi avete presentato le vostre rivendicazioni, insomma il succo di questo incontro qual è? Patuanelli in quell'incontro è incassato perché siamo intervenuti pesantemente, dicendo la verità tra l'altro, dicendo che, io ho usato un termine, si ha la sensazione che lo Stato ci abbia consegnato nelle mani della multinazionale, consegnato 12 mila lavoratori fra diretti appalto. Abbiamo rifacciato al governo tutta una serie di questioni, io stesso Patuanelli ho detto tra le altre cose assurde che sono capitate nell'ultimo periodo, c'è anche quella di leggere dichiarazioni dello stesso Patuanelli che la mattina danno un indirizzo alla questione e la sera poi Gualtieri che dice l'esatto contrario. Quindi abbiamo anche rimarcato la confusione che si è creata all'interno del governo e abbiamo tra l'altro detto che ancora noi non abbiamo ben chiaro quale sia lo schema secondo il quale il governo vuole uscire da questa situazione. E tra l'altro, io ho più volte detto a Patuanelli, gli ho rinfacciato il fatto che non ci stanno ascoltando perché il clima di tensione, il clima di esasperazione è talmente elevato che non è un caso che la gente stia soffrendo. E su questo ci aspettavamo un intervento del governo che in realtà non c'è stato. In buona sostanza, Patuanelli cosa ha replicato? Che rassicurazioni, magari formali, seppur formali, ha dato? Patuanelli continua a ribadire, ci sono delle cose che per patti contrattuali non possono essere rilevate che, ho fatto una precisazione, ha detto che il governo ci metterà i soldi nel capitale attraverso Invitalia, no? Probabilmente attraverso Invitalia o una società parastatale insomma e ci mette i soldi per evitare che ci sia un solo licenziamento. Quindi loro dicono ci stiamo mettendo i soldi perché dobbiamo evitare che si possa profilare un licenziamento di massa all'interno di quella fabbrica. Riccio però il punctum dolens è che comunque lo Stato interverrà però il partner sembra rimanere sempre Arcelor Mittal, cioè un governo che sembra piegato pur di non perdere Arcelor Mittal. E il vero problema penso che sia la presenza di Arcelor Mittal in questa nuova compagine costruenda. Sì perché la cosa assurda di tutta questa storia in realtà poi non è il governo che decide se Arcelor resta o non resta. È Arcelor che decide se restare oppure no. E io a Paduanelli ho detto una cosa, gli ho detto guardi, ho detto glielo sottoscrivo adesso se vuole ho detto così poi se lo legge quando avverrà. Se voi ci mettete i soldi pubblici Arcelor per un anno, un anno e mezzo probabilmente farà filare le cose dritto salvo poi consumare tutti i soldi pubblici e staremo nuovamente punte da capo. Quindi abbiamo chiesto che la priorità sia quella dell'allontamento di Arcelor, visti gli atteggiamenti continui e gli sfottò perché sono veri e propri sfottò, sono atteggiamenti tesi poi ad irritare, a far disperare tutti i lavoratori e le loro famiglie che stanno vivendo una condizione di disagio credo mai vissuta negli ultimi anni. Ecco, a questo proposito apprendiamo che Arcelor Mittal chiede al governo lo slittamento dell'attuazione, dell'applicazione, delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale dell'AIA. Questa è un'altra beffa, cioè di rinvio in rinvio anche questo la dice lunga sulle tecniche in questo caso dilatorie di Arcelor Mittal. Senti, la cosa è chiara, tra l'altro parlando con Patuanelli ho detto non potete manco far finta di non sapere perché abbiamo fatto relazioni su relazioni, parlando dello stato dello stabilimento, della pericolosità che ha raggiunto credo livelli altissimi all'interno della fabbrica, tra l'altro gli ho detto guarda che le prime relazioni che io vi ho inviato sono state a gennaio 2019, a luglio, il 7 luglio quando vi abbiamo consegnato anche un bocco fotografico della grave situazione all'interno della fabbrica preannunciandovi in quei documenti che lì c'era il rischio che ci scappasse il morto, tra l'altro poi dopo qualche giorno purtroppo ci ha rimesso la vita Cosimo Massaro. Noi abbiamo continuato a ribadire che la situazione ad oggi dal punto della sicurezza è grave, che Arcelor nulla ha fatto finora per migliorare le condizioni all'interno e all'esterno della fabbrica, perché tra l'altro come si può notare si continua con l'emissione di massicce sostanze in atmosfera e quindi... Seppur con una minore produzione, questo è il paradosso. Sì, produzione minore, il problema è che se gli impianti sono in condizione di deficit è chiaro che tu hai peggiori condizioni. Una macchina vecchia da cui esce fumo nero per volgarizzare il concetto. È l'esempio giusto, quando tu non fai neanche le manutenzioni a quella macchina vecchia è chiaro che hai una condizione che diventa addirittura peggiore con una produzione più bassa. Sulla cassa integrazione abbiamo fatto notare una cosa, abbiamo detto che quando hanno aperto la cassa l'anno scorso, anche qua, in un incontro a Confindustria, Roma, io dissi in presenza della loro amministratura, metti uccella a gennaio, non è che vi inventate la cassa integrazione, fa poco, manco a farla apposta, lo scriviamo su alcuni volantini pure lavoratori, manco a farla apposta, a maggio questi annunciano che arriva la crisi dell'acciaio, tra l'altro in quel momento gli indicatori europei non segnalavano che l'acciaio fosse in crisi, aprono la cassa integrazione. Abbiamo fatto notare a Paduanelli però che la settimana scorsa, in concomitanza con le notizie che il mercato dell'acciaio si sta riprendendo, i prezzi addirittura sono schizzati di quasi il 30% verso l'alto, quindi c'è una maggiore richiesta, invece di far rientrare lavoratori dalla cassa, e già ce ne abbiamo quasi 4 mila, Arcelor comunica altri mille cassi integrati in più. Quindi è una contraddizione di fondo e tutte queste cose dimostrano in realtà che noi abbiamo ragione e che Arcelor sta giocando una partita facendo tutta una serie di pressioni sul governo che non sa che pesci migliare e sui lavoratori. La cosa grave è che Paduanelli a un certo punto dice avete ragione, è questa la cosa assoluta. Ma è lui il ministro fino a prova contraria, no? C'è un governo che governa o non governa a questo punto? O è un governo prigioniero di Arcelor Mittal? Non so cosa dire. È un governo prigioniero di se stesso perché io credo che la partita si giochi fra il ministro del Tesoro che è Gualtieri, che tra l'altro pare avere ottimi rapporti con la Morselli, che è quello che spinge per un'ilva aperta con la partnership di Arcelor Mittal e quindi facendo rimanere la Morselli e il ministro del sviluppo economico, Patuanelli, che ha un'idea diversa e quindi preferirebbe allontanare Arcelor Mittal. Il problema, lo dico anche qua, al governo c'è il PD che è colui che ha fatto 12 decreti, non ce lo scordiamo questo. Salva ilva e ammazza Taranto. Sono quelli che ci hanno spiegato come si poteva nazionalizzare, quindi oggi diventa anche complicato andare a smentire quello che tu hai fatto. Il paradosso in tutta questa storia è che le vittime poi sono i cittadini e i lavoratori di quella fabbrica. Rizzo, pare che in questi giorni forse oltre 200 unità dovrebbero, parliamo di una percentuale minima, rientrare dalla cassa. Sembrerebbe questo un piccolo, proprio un pelo, diciamo così, positivo di questo incontro. Senti, è stato un contentino. Sì, ho detto, un panicello caldo. Sì, che oggettivamente, come dire, non... ma la dico così, noi abbiamo fatto un comunicato unitario in cui abbiamo detto che la fabbrica andava fermata perché non era in sicurezza e il giorno dopo, vabbè, io mi alzo dal tavolo, dopo... Ecco, a questo proposito, quindi noi, ora andiamo con ordine. Loro fanno un comunicato in cui dicono partiranno gli incontri tecnici per recuperare qualche centinaio di unità che oggettivamente mi sembra, come dire, uno schiaffo a tutta la parte dei lavoratori, perché qua parliamo di oltre 4.000 persone in cassa integrazione, tra l'altro con le aziende d'appalto che sono costrette ancora oggi a contenere il numero di unità complessive durante la giornata a meno di 2.000 e abbiamo questa situazione di cassa integrazione che è ormai radicata in tutto l'appalto e in tutto ArcelorMittal. Allora, la giornata romana di giovedì 24 settembre ha visto l'incontro col ministro dello sviluppo economico Patuanelli e poi, e qui veniamo al clou della situazione, veniamo all'incontro con il presidente e amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli. A un certo punto, ora ci racconterà lei come è andato l'incontro, qual era il clima, mentre uno di un suo collega sindacalista parlava, a un certo momento pare che, anzi non pare, la Morselli leggeva, sfogliava il giornale. Poi ha propria dimostrazione di quanto la Morselli se ne freghi o si disinteressi assolutamente delle problematiche di cui ci stiamo occupando. Anche significativa, giusto per una nota di colore, la borsa della Morselli, non disturbare, stiamo impegnati, stiamo cambiando il mondo, una cosa del genere. Mi sembra proprio una carichetta, cioè farsi beffa dei lavoratori, è sintomatica la cosa. Ma a un certo punto lei, rappresentante dell'USB, ha perso la pazienza e ha lasciato il tavolo dei lavori, vedendo la Morselli che se ne fregava altamente, leggeva il giornale mentre i sindacati parlavano. Già il giorno prima, nel mio intervento, io mi ero parecchio soffermato sul satteggiamento strafottente, di indifferenza, quasi di disprezzo, che la Morselli e alcuni dei suoi uomini hanno rispetto ai lavoratori e ai cittadini di Taranto. Tra l'altro, ribadendo al Ministro, guardate, la situazione è grave, abbiamo avuto negli ultimi quattro mesi tre ragazzi che si sono tolti la vita. Cioè, quindi, proprio a descrivere un atteggiamento che oramai è continuo nel tempo. Gli ho detto, è questi che fanno, nei momenti in cui c'è gente disperata che viene messa in cassa integrazione, che non ce la fa a pagare il mutuo, non ce la fa ad andare avanti, questi si fanno un video pubblicitario in cui addirittura il capo del personale, manco fosse Brad Pitt, si fa vedere sulla barca dicendo Taranto è bellissima, noi abbiamo la volontà. Cioè, proprio a sfottere le persone e a prenderci proprio completamente in giro. Cioè, è questo l'atteggiamento che abbiamo denunciato al Ministro, che tra l'altro, come dire, è certificato, documentato, perché è un anno e mezzo che va avanti sta storia. E quel giorno che succede? Succede con un certo punto. Uno, sapevamo che l'incontro si teneva comunque in presenza di funzionari del Ministero. Invece in realtà lì del Ministero non arriva nessuno. Arriva la signora con i suoi tre caicchi al seguito, con sta borsa in cui c'era scritto, che già era il preludio a quello che sarebbe stata la giornata, c'era scritto non disturbate, devo salvare il mondo. Noi ci faremo una maglietta, non disturbarci, dobbiamo salvare Taranto dalla Morselli. Se la si può fare? Poi a un certo punto, questa che fa? Appoggia la borsa sul tavolo, inizia a parlare il segretario della Will, verso la fine dell'intervento del segretario della Will, lei apre sta borsa, tira fuori un giornale e si mette tranquillamente a leggere il giornale. Inizia a parlare il segretario della CISL, lei continua. Io a un certo punto guardavo i colleghi per dire che non è un atteggiamento normale, ma non è manco un fatto personale. La dico così, il fatto che tu ti fai vedere completamente indifferente rispetto alla situazione, lo schiaffo non lo stai dando a me, lo stai dando alle centinaia e centinaia di lavoratori che rappresentiamo. Io in quel momento ho detto guardate io non ci sto, cioè è vergognoso questo atteggiamento per quanto mi riguarda, io l'incontro lo faccio, ci siamo alzati e ce ne siamo andati. Però questo per dire i sistemi della signora, che tra virgolette perché poi non so se possiamo definirla così, cioè sistemi che tendono ad irritare, a far incazzare e che tra l'altro dimostrano in un momento come questo la mancanza totale di sensibilità. gliel'abbiamo detto al ministro, in una fase così delicata, il governo dovrebbe essere responsabile, il sindacato dovrebbe essere responsabile tentando di arginare anche la possibilità che possano scoppiare disordini sociali, ma lo stesso dovrebbe fare l'azienda. Gli abbiamo fatto notare a Paduanelli che invece l'azienda fa l'esatto contrario, cioè mette in moto dei meccanismi che sono atti poi alla fine a far incazzare le persone e gliel'abbiamo detto guarda che in quella fabbrica è come una caserma, ex caserma sovietica in cui tu puoi guardare solo dritto, cioè tu non ti puoi manco permettere più il lusso di alzare la testa al cielo perché rischi di ricevere un provvedimento perché questa qui tra l'altro come dire è famosissima, questa sta licenziando gente semplicemente perché sping può parire. Quindi un clima di terrore che io non ricordo in 22 anni di vita all'interno di quella fabbrica. Quindi abbiamo detto al ministro un atto di coraggio, cacciateli fuori, non allontanateli, cacciateli, cacciateli perché si meritano di essere cacciati e calci nel culo. Lei e quei quattro caicchi morti di fame che stanno lì che si vendono per un pezzo di fame che poi hanno pure il coraggio di camminare in mezzo alla strada. Lo dico con rabbia perché guarda abbiamo superato ogni limite, abbiamo superato ogni limite perché anche di fronte alla disperazione delle persone ci sono atteggiamenti di questo tipo, io penso che a un certo punto il messaggio è che a questo punto rischiamo che tutto sia consentito, ma proprio tutto. Cioè nel senso, voi non mi lamentate quando ci chiedete di stare nelle regole e chi dovrebbe dare l'esempio è il primo che continua a sputare in faccia alla massa dei lavoratori che è disperata. Certo Rizzo, è una situazione, concludiamo, incredibile. Ripeto, è incredibile questo comportamento di Arcelor Mittal perché come lei ha più volte detto i Riva almeno fingevano di dialogare, si sforzavano e però è altrettanto a mio avviso forse ancora più paradossale e preoccupante, lo dicevamo prima, questa situazione di un governo che sembra piegato subalterno ad Arcelor Mittal e alla Morselli. Quindi giustamente il lavoratore, il sindacato dice ma a chi mi devo rivolgere, a quale santo mi devo rivolgere, perché quando il ministro dice sono d'accordo con quello che dite voi, perché non ci dava torto, però a un certo punto quando noi dicevamo, io ribadivo, bisogna allontanarli subito, fate entrare i commissari a esse, abbiamo la struttura, mettiamo in sicurezza quella benedetta fabbrica e i lavoratori di quella fabbrica e poi ragioniamo su quello che dobbiamo fare, lasciando le posizioni intatte. C'è chi vuole la fabbrica aperta, decontaminata, c'è chi come noi invece dice cambiamo completamente registro e quei 3 miliardi che lo Stato ci deve mettere, cambiamo il volto di Taranto partendo dal fatto che la fabbrica deve essere dismessa. Cioè abbiamo chiesto secondo noi la soluzione migliore per tutti quanti e il ministro dice avete ragione però io preferirei mandarli via facendoli pagare la penale e io gli ho detto anche qua, lo sapete benissimo che non pagherà nessuna penale, non vi è pagato manco i canoni d'affitto, cioè trova scusa su ogni tanto, e gli ho detto al ministro i soldi questa qua li vuole da noi, ma anche qua se vogliono una cifra facciamo una colletta, basta che se ne vanno, perché alla fine guarda è assurdo, siamo ostaggi di una multinazionale che veramente sta mettendo alle corde decine e decine di schiavi in casa nostra, siamo schiavi in casa nostra, si dovrebbe difendere che in realtà passivamente come dire consente a questa multinazionale di fare tutto quello che vuole.